Signori, dovete stare dentro. Quanto è di tempo per un filmato? Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva! No! Viva il Papa! Non ci posso fare! Non ci posso fare! Non ci è passato per casa! Che cosa fare? Quando si muove che poco fa di lavoro e creso! Cino ci è passato un metro! Va bene!